Ehi la gente, benvenuti in questo nuovo video, oggi siamo tornati su Brawl Stars e signori, oggi cominciamo con Bell, di lei parleremo poi tra poco durante il corso del video, in questo episodio vedremo delle news per quanto riguarda l'ultimo aggiornamento, alcune cose, altre cose in realtà, che sono sfuggite anche agli occhi più attenti e che continuano a saltare fuori su Twitter, sui Reddit e io raccolgo per voi e ve le riporto in questi video. Chiaramente anche oggi per ricominciare, per tutte le info che vi porto vi chiedo solamente un bel mi piace in cambio e l'iscrizione al canale, siamo a un passo dai 449.000 iscritti, manca poco, ma tanto lo sapete tutti che noi puntiamo molto più in alto, signori, ovviamente non dimenticate mai il codice ferre in fondo allo shop, anche perché di shop parleremo anche qua molto presto. Allora andiamo per ordine, volevo cominciare da questo ragazzi, un tweet del buon Ash che riporta quella che è una sua stima dei 30 paesi dove Brawl Stars viene giocato di più, partendo dalla Finlandia per assurdo in trentesima posizione dove il gioco è stato lanciato effettivamente e da lì si risale Colombia, Singapore, insomma non ve li sto a leggere tutti, li potete vedere voi. Quello che ci interessa chiaramente è l'Italia che sta in ottava posizione sopra la Spagna, la Spagna ragazzi è una community gigantesca e vedere che Brawl Stars è ancora più giocato rispetto che la Spagna dico wow. E chiaramente quelli che ci battono sono veramente pochi, sono Sud Corea, la Russia, non si sa come visto che là in teoria Bruno si dovrebbe usare, gli USA, la Germania, questa non me l'aspettavo in quarta posizione, poi Brasile, Francia e Giappone. Brasile me l'aspettavo, Giappone ci avrei messo quasi la mano sul fuoco, ma di nuovo la Francia non pensavo. Però i francesi, i nostri cari vicini hanno anche tanti giocatori forti nel competitive, quindi in realtà sì, ci si poteva arrivare. Ma a proposito di popolarità, andiamo sul canale ufficiale di Brawl Stars, nella sezione video, filtrando per popolari, a parte questi che sono video annunci che hanno fatto, vabbè, quanta di visualizzazioni senza senso, possiamo vedere che il Brawl Talk più visto ragazzi è questo, ovvero il Brawl Talk in cui venne aggiunto, per intenderci, Stu e la Power League ragazzi. In effetti uno dei Brawl Talk, anche a mio parere, è più bello di sempre. Bene, con 34 milioni di visualizzazioni, questo Brawl Talk non era mai stato battuto e invece ragazzi, l'ultimo Brawl Talk, che è uscito da appena una settimana, sta già a 33 milioni di visualizzazioni. Questo vuol dire che, da un momento all'altro, questo diventerà il Brawl Talk più visto di sempre ragazzi, cioè la nostalgia verso le Megabox, insomma, ha battuto persino la Power League, l'antenata delle ranked praticamente. Tra l'altro, già che mi fermo in questo, fermo immagine, non a caso in realtà, vi faccio notare che il nome di Bubble Trouble Amber in realtà è sbagliato, perché in realtà il suo nome, vabbè, qua si chiama Ambra Bole di Sapone, perché in realtà il suo nome ragazzi è questo, Bubble con due B. Vabbè, piccola curiosità che mi è capitato di leggere su Twitter, tra poco vi dirò anche da parte di chi. Prima però faccio un salto su Reddit, perché volevo parlarvi di questo concept che l'ho trovato, che secondo me è molto interessante e pone una domanda che mi sono fatta anch'io, non so se ve la siete fatta anche voi, ovvero, perché nell'evento delle box hanno messo solo le Megabox e non anche le Brawl Box e le Big Box? Qua dà anche un'idea molto carina di come avrebbero voluto fare, come nell'evento Godzilla, e ricordate che si potevano ottenere le uova ogni giorno praticamente? Mettere due Megabox gratuite sarebbe stato troppo OP, mi rendo conto, ma mettere una Brawl Box e una Big Box non sarebbe stato un bel modo per integrare entrambe, anzi tutte le tipologie di casse. Comunque torniamo su Brawler e andiamo a vedere molto rapidamente Penny nella sua skin Signora dei Procioni, così cominciamo a vedere un po' di curiosità per quanto riguarda questo update. Come molti Brawler, Penny ha ricevuto un avatar con questa sua skin, li possiamo anche vedere direttamente tutti da qua, però vi faccio notare ragazzi come sia molto forte il riferimento tra l'avatar del Procioni che hanno aggiunto Penny e la meme di Pedro, Pedro, Pedro. Ok, adesso vi farò notare un po' di cosette così, magari alcune le avete già notate, altre no. Come ad esempio il fatto che finché siete in lobby da soli siete in grado di vedere tutte le vostre risorse, ma se startate una delle nuove lobby, quindi ad esempio faccio Crea, le risorse spariscono e in lobby è impossibile vedere le risorse sul proprio account, cioè non si vedono da qua, non si vedono dal negozio come potete vedere e non si vedono neanche dal pass. È totalmente impossibile vedere le proprie risorse, bisogna per forza quittare la lobby, questo è sicuramente un problema di questo aggiornamento che spero andranno a fixare prima possibile. Un'altra curiosità invece ve la faccio vedere da Useless Brawl Stars Facts, pagina molto interessante ragazzi che condivide veramente un sacco di roba per quanto riguarda Brawl, e qui parla di bot e dice una roba che mi avete segnalato in tantissimi, ovvero il fatto che i bot, totalmente a caso, possono avere gli avatar dei brawler nel 2019, quindi questo esempio il vecchio pocio, che teoricamente non sono neanche usciti perché saranno disponibili dal 12 con l'arrivo delle box, ebbene ci sono i bot che girano nelle lobby che hanno già questi avatar disponibili, e non solo, non è l'unico modo per riconoscere facilmente i bot, infatti come saprete a questo update, se andiamo sul nostro account e pigiamo in alto destra, possiamo vedere account creato nel 2018, sì lo so, è una cosa bellissima, mi sento molto vecchio, lo so, anche se in realtà io sono nato nel 2018 come tutti sanno, quindi in realtà sono giovanissimo, se però andiamo a vedere l'account di un bot, questo è quello che succede, c'è scritto account creato nell'anno 0, quindi o probabilmente Gesù a suo tempo si fece veramente tantissimi account, oppure ragazzi, questo è un modo semplicissimo finalmente, per riconoscere senza ombra di dubbio gli account bot, beh in realtà già prima a un player un minimo esperto era facilissimo riconoscere i bot, però adesso è proprio palese, c'è account creati nell'anno 0, ma insomma a questo punto arriviamo a spiegare il perché c'ho la carissima Belle qua nella mia lobby, infatti tempo fa abbiamo votato, se vi ricordate questo, ovvero il sondaggio definitivo, lo spareggio chiamavolo così, dei finalisti di Supercell Make, avevo criticato una skin in particolare, oggi sono usciti i vincitori, indovinate chi ha vinto? Esatto, proprio la skin che avevo tanto criticato, io non sto ritornando su questo discorso, se vi interessa andatevi a recuperare il vecchio video in cui ne parlavo, resto assolutamente della mia idea, comunque è una bella skin, altrimenti la gente non l'avrebbe votata, il designer che l'ha realizzata credo che abbia fatto solamente bene, perché è palese che abbia seguito quello che è il gusto della community, però cosa molto interessante è questa ragazzi, non è mai successo probabilmente, c'è un bonus winner, un vincitore bonus ragazzi ed è questo, si chiama se non sbaglio Astral Bell, il designer è Kalator da quello che c'è scritto e quello che dicono è il team proprio di Brawl Stars evidentemente ha amato, anche una skin in particolare ovvero Bell Ancestrale, ok questa è la traduzione con Twitter e quindi l'hanno tirata dentro come vincitrice bonus e a questo punto la domanda è che sia stata amata per un discorso di design, per una raccomandazione, no dai non pensiamo male, ferre malizioso sciacquati la bocca per questa cattività che hai detto, oppure perché magari si sposa perfettamente con un tema di un pass futuro che vogliono introdurre, quindi un pass ancestrale, devo dire che comunque sia mi piace molto più della skin vincitrice, però devo essere sincero per entrambe le skin non vi posso dare una data definitiva per la loro uscita, posso darvi però tuttavia una serie di date, vado sul mio calendario, ve le dico molto rapidamente perché comunque mi arrivano un sacco di messaggi ma è una roba ragazzi che ormai è risaputa, quando escono i nuovi passi innanzitutto, il primo, il 4 di luglio ragazzi, eccolo qui, il secondo invece il primo di agosto, eccolo qui, quando escono i brawler che hanno accesso anticipato, vabbè Barry è già uscito banalmente, clan si esce una settimana prima quindi il 25 di luglio, eccolo qui anche lui, l'evento delle brawl box inizia il 12 e dura fino alla fine del mese, l'ultima qualifica Brawl Stars Championship che trovate già programmata sul canale, il 6 e il 7 di luglio, ripeto, programmata sul canale, attivata per memoria, la finale mensile, quella dove si otterrà anche il premio speciale, il 20 di luglio, anche questa programmata sul canale, ore 13.30, attivata per memoria, il Megapig invece, che si pensava potesse essere spostato con l'evento Mischia Classica, non è così, è predictabile grazie ai clan che l'hanno già spoilerato mettendo il countdown, dal 19 al 21, stesso weekend. Invece per quanto riguarda il mese di agosto, importantissimo il penultimo weekend del mese, perché ci sarà il Last Chance Qualifier, nel quale si vincevano dei premi esclusivi, ma di questo parleremo più avanti, adesso non ha senso farlo, e ci piazzo il predict per un possibile Brawl Talk proprio durante quello stesso weekend. Toh, vi dico pure che il 7 di agosto è il mio compleanno, non so più che altre date dirvi ragazzi, spero di aver risposto un pochettino a tutto quello che mi avete chiesto nei messaggi privati, ovviamente ragazzi ci vediamo ogni giorno con un nuovo video, non preoccupatevi, non scappo anche se è estate, quindi un bacione e un abbraccione, noi ci becchiamo prestissimo con un nuovo video, ciao belli!